Nuove possibilità di socializzazione nella fase 2 dell'emergenza coronavirus in Toscana grazie all'ordinanza numero 70 firmata dal presidente della regione Enrico Rossi. Il provvedimento indica le condizioni di sicurezza da rispettare per riprendere tante situazioni di relazione. Sporti di contatto come il calcetto, spettacoli al chiuso, processioni religiose, cortei storici, balli di coppia, limitati però ai soli congiunti, giochi di carte. Le indicazioni relative agli sport di contatto sono sicuramente fra le più attese. Noi aspettiamo ancora un accordo con il Ministero della Salute e del Ministero dello Sport per avere su questo linee guida un'attenzione ancora maggiore per ripartire, però nel frattempo abbiamo fatto la nostra ordinanza e quindi le associazioni, i singoli cittadini possono cominciare a organizzarsi con attenzione per fare queste cose, insomma che sono cose della vita normale, della vita comune. L'ordinanza ripristina anche la possibilità di consultare giornali e riviste nei bar e dal parrucchiere, nonché la riapertura di servizi ad alta valenza turistica come le saune. Grazie. Grazie.